Buongiorno, ci incontriamo nel video di oggi per parlare di eiaculazione precoce e del possibile trattamento tramite sedute di agopuntura. Prima di iniziare vi prego però di iscrivervi al canale e di biffare la campanella. L'eiaculazione precoce è l'incapacità nel genere maschile a mantenere sufficientemente a lungo il rapporto sessuale. Talvolta l'orgasmo avviene ancora prima della penetrazione. Come in ogni malattia ci possono essere cause organiche, emotive o mentali. Tra le cause organiche osserviamo per esempio l'ipertiroidismo, le prostatiti, l'uretriti, l'infiammazione, le anomalie del frenolo e lo stile di vita errato. La causa psichica più comune è l'ansia, soprattutto quando da prestazione. Tra le cause mentali osserviamo invece i conflitti biologici connessi alla sessualità. Talvolta queste diverse cause possono tra loro associarsi, ingenerando complessità nel trattamento. L'eiaculazione precoce è una sofferenza in aumento, soprattutto nelle società sedicenti avanzate e nelle fasce più giovani della popolazione. In queste società si propongono infatti valori, stili di vita e abitudini talvolta veramente in contrasto con la salute. Il trattamento dell'eiaculazione precoce è preceduto dunque da una corretta valutazione di tutte le cause indicate. Quando non si trovano aspetti organici da trattare, occorre spostare l'attenzione sullo stress. Lo stress fa infatti la parte da gigante nell'eiaculazione precoce. Si osserva infatti una correlazione bidirezionale tra stress e eiaculazione. Da un lato l'eiaculazione precoce crea stress a chi ne soffre, ma lo stesso alimenta questa condizione, creando di fatto un circolo vizioso, necessariamente da interrompere, perché altrimenti si autosostiene. Nel paziente affetto da eiaculazione precoce stress correlata, si può considerare tra le terapie certamente anche l'agopuntura. I protocolli di trattamento in agopuntura sono orientati al malato oltre che alla malattia. Sono pertanto diversi a fronte della stessa diagnosi. Tuttavia si utilizza nell'eiaculazione precoce stress correlata il meridiano del fegato e il meridiano del rene molto spesso. L'eiaculazione precoce è causata infatti secondo la tradizione da un vuoto dello in di rene con conseguente incapacità a trattenere lo yang di fegato. Si tratta della condizione opposta e complementare alla disfunzione erettile. In questo caso infatti occorre disperdere il yang di fegato e tonificare lo in di rene. Per la tonificazione dello in di rene si può stimolare il rene 7, in cinese figliù. Il punto si localizza sul bordo anteriore del tendine d'Achille, due son sopra la punta del mallevole interno. Rene 7 è infatti il punto di tonificazione di rene. Per la dispersione dello yang di fegato in eccesso si utilizza il punto fegato 4. che si localizza sulla piega della caviglia medialmente al tendine del muscolo estensore dell'alluce. Uno zuna anteriormente dalla punta del mallevole interno, a metà tra stomaco 42 e milza pancreas 5. Fegato 4 è proprio il punto di dispersione del meridiano del fegato. La stimolazione dello in di rene e la dispersione dello yang di fegato corrispondono ad avanzamenti anche emotivi e mentali, non soltanto fisici. Sul piano comportamentale si osserva l'acquisizione di sicurezza in se stesso e forza per quanto riguarda la tonificazione di rene. Per quanto riguarda la dispersione dello yang di fegato eccessivo, il paziente acquista una maggiore calma durante i rapporti. Tuttavia in agomutura occorre preservare la personalizzazione del protocollo di trattamento. Questo significa associare punti per il malato ai punti indicati per la sua malattia. Trattando per esempio le comorbidità associate, anche se non in esso causale con il disturbo, si migliora la performance terapeutica. Dunque osserviamo nel protocollo della malattia in agomutura punti uguali per gli stessi pazienti e punti che sono specifici del paziente in oggetto. L'agomutura è caratterizzata dall'assenza di effetti collaterali, non produce dipendenza o assofazione, infine associabile ad altre forme di terapia quando necessario. L'agomutura considera in ogni malattia aspetti fisici accanto a quelli emotivi e mentali. Inoltre studia la relazione tra malattie distinte solo dalle diverse aree di interesse specialistico. Si tratta di aspetti estremamente interessanti nel metodo che consentono vantaggi in terapia ben oltre la semplice infissione di aghi. Bene siamo alla fine del video di oggi, lasciate un like, iscrivetevi al canale ma soprattutto fate commenti sarà mia cura rispondere a tutti. Spero di vedervi presto ancora, arrivederci!